Tragedia Fano, anziano muore tra le lame di una moto zappa. Vaccine a Gradara diventano quattro gli hub vaccinali della provincia. Lotta al degrado, ora a Pesaro si colorano i sottopassaggi. Zona gialla di rinascita, dopo tante chiusure c'è chi apre nuovi locali. Zona gialla di rinascita, dopo tante chiusure c'è chi apre nuovi locali. con una notizia arrivata proprio questa mattina da Fano, dove un uomo di 95 anni è morto finendo tra le lame di una moto zappa agricola, mentre stava lavorando la terra nel campo adiacente alla sua abitazione in località Cannelle. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente, ma secondo i vigili del fuoco di Fano, l'uomo sarebbe rimasto incastrato con un braccio fra le lame per poi battere la testa nella fresa del macchinario. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo era sceso dal trattore proprio per verificare da vicino un malfunzionamento. Le attrezzature dei vigili del fuoco hanno consentito di liberare il corpo dell'uomo, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Ed ora l'aggiornamento sul fronte dei vaccini, che presto avranno anche un nuovo luogo di somministrazione nella nostra provincia. Infatti, dopo Pesaro, Fano e Urbino, che hanno retto il carico di tutte le vaccinazioni della provincia dello scorso febbraio, sta per aggiungersi anche un hub vaccinale a Gradara. Vediamo quindi quali sono i tempi e le modalità. Salto di qualità che fa rima con salto di quantità per la campagna vaccinale. Dopo l'arrivo di 52.000 dosi di Pfizer approdate ieri nelle Marche a rifocillare le inoculazioni rallentate negli ultimi giorni, due novità contrassegneranno la prossima settimana. La prima è l'ormai imminente apertura delle prenotazioni ai cittadini compresi fra i 60 e i 65 anni. L'altra, per quel che riguarda la specificità della provincia di Pesaro-Urbino, è rappresentata dall'ufficializzazione di un nuovo hub vaccinale situato a Gradara. Dal 20 febbraio scorso fino ad oggi, tutta la campagna anti-covid si era infatti concentrata nei tre poli urbani di Pesaro, prima al centro Monaldi, poi all'ex Ristò, del Codma di Fano e del Palacarneroli di Urbino. Ora, al Palazzetto di Gradara, che già fu testato per gli screening di massa della Regione, si prefigura il primo punto vaccinale di prossimità dell'area vasta 1 per quel che riguarda la provincia di Pesaro-Urbino. Palazzetto dello Sport di Gradara, che sarà attivo per tre sabati consecutivi a partire dal 15 maggio e servirà i cittadini dei territori comunali di Gradara, Gabiccemare e Tavuglia. Il motivo del ricordo è non solo per Gradara, ma anche per Gabiccemare e Tavuglia, sono i tre comuni che hanno collaborato, stanno collaborando nell'organizzazione non semplice di questo punto vaccinale, ma vorrei fare un profondo ringraziamento al dottor Marco Caroli, che cogliona un po' l'equip dei medici coinvolti per la determinazione e per la spinta che ci ha dato nel partire con questa richiesta, e a dottressa Elisbeth Esposto, direttrice del centro di Pesaro, per il supporto fondamentale che ci sta dando. Quindi un lavoro di squadra che coinvolge altri sei medici del territorio, che ci tengo a citare, perché sono davvero grazie a loro che riusciamo ad aprire questo centro, che sono Lara Federici, Cesare Gamberini, Cesare Ragni, oltre allo stesso Marco Caroli, Federica Federini e lo piccolo Maria Urtovà. Questo sabato 8 maggio si faranno le prove generali al palazzetto di Gradara con una manciata di pazienti in attesa del secondo richiamo. Dopodiché si conta di partire sabato 15 maggio con circa 100 somministrazioni. Sì, faremo una piccola prova generale sabato 8, però l'inizio ufficiale del punto vaccinale sarà sabato 15, per i tre sabati mattina di maggio e ovviamente prorogato poi anche per i mesi di giugno. L'idea è quella di essere pronti e rodati per giugno, quando si spera arrivino ancora più dosi di vaccino e si amplierà anche la platea dei cittadini che potranno avere accesso al vaccino. Nel telegiornale di lunedì vi faremo vedere questa prima giornata e ve la racconteremo per quanto riguarda le vaccinazioni a Gradara. Invece adesso continuiamo a parlare di Covid, ma in questo caso i dati della sanità. Infatti c'è un lieve rialzo dei contagi con i tamponi positivi nelle Marche che in due giorni passano dal 9 all'11%. Oggi sono 282 i casi positivi registrati nelle Marche su 2.454 nuove diagnosi per un totale di 4.441 tamponi. Contagi più alti nella provincia di Pesaro Urbino con 122 casi. Nella giornata di ieri sono venuti a mancare 4 marchigiani contagiati da Covid-19. Il Comune di Pesaro lancia una nuova iniziativa contro il degrado cittadino. Luoghi grigi come ad esempio i sottopassaggi urbani da giugno verranno colorati con opere di artisti del nostro territorio. Vediamo cosa ci racconta Edoardo Razzi. Loreto, San Decenzio, Via Lamarca, Via Gradara e Via Milano. Questi sono i sottopassi che verranno coinvolti dal progetto Sottopassaggi di arte urbana. Un'idea pensata dal Comune di Pesaro per riqualificare aree di transito del centro urbano che troppo spesso vengono trascurate in situazioni di degrado. Un intervento di miglioramento estetico dei sottopassi cittadini che avverrà grazie alla realizzazione di murales, il tutto per regalare un'immagine colorata e pulita alla città. L'iniziativa, nata dal coordinatore 20 del Comune di Pesaro, Massimiliano Santini, partirà verso giugno dal sottopasso di Via Lamarca, per poi proseguire con quello di Loreto a luglio e quello di Via Milano a settembre, mentre gli altri punti verranno ultimati nel 2022. Le operazioni di restyling verranno realizzate solo nelle ore notturne, circa dalle 23 alle 5, per limitare disagi al traffico. Gli artisti locali e nazionali coinvolti dal progetto svilupperanno quindi opere di street art dedicate alla valorizzazione di Pesaro, freggiandola di pittura e creatività. Io amo particolarmente l'arte di strada, non gli scarabocchi, non quelli che si divertono a rovinare i muri delle case private e gli edifici pubblici, però penso che gli artisti che lavorano sulla street art sono veramente ragazzi geniali e bravi, quindi devono avere in qualche modo la loro vetrina, una città importante come la nostra. Stiamo adesso in questi giorni anche colorando, dando un tema alla ex fontana del Parco Miralfiori, se fate un giro la potete vedere, c'è già l'artista che ci sta lavorando e quindi ci piace pensare di avere una città più pulita ovviamente come il desiderio di tutti e anche un pochino più colorata. In queste tante settimane Rossini TV si è occupata dei vari problemi per quanto riguarda il settore in modo particolare della ristorazione, bar, ristoranti che sono stati chiusi tantissimo tempo, ma in questo momento così complesso c'è chi trova il coraggio di aprire una nuova attività. Vediamo. Aperto il bar figaro appena siamo arrivati sul giallo in realtà era pronto da un po'. Poi sai, devi aspettare i vari protocolli, l'occasione giusta per partire. Questa era un'idea che avevo io da tanto tempo, che era quella di avere una base operativa anche per le altre attività che svolgiamo come staff, avendo anche il Circo Love, che è una discoteca, Spazio Web, che sono degli studios, che tra l'altro sono in onda su Rossini TV con una bella trasmissione di live e streaming, e con i miei soci qui, c'è Daniele Collesi e Emanuele Marco Cardinali, che poi tra l'altro è operativissimo qui, l'ho trovata dietro il banco del bar, è quello bello. Abbiamo aperto, fatto questa scommessa, aperto questo posto che è stato leggendario, questo è stato un posto leggendario negli anni 70, 80, io me lo ricordo quando ero piccolo. Si chiamava Ariston, questo nome è così regale, io in onore alla vecchia proprietà e alla storia che ha raccontato, ho ottenuto un quadro che mi hanno lasciato gentilmente, i quadri che ha allestito all'interno sono della mia amica Mara Cerri, che ha prestato gentilmente delle sue illustrazioni. Il quadro gigante sulle scale che trovate, invece, è lo storico quadro che era dell'Ariston, per mantenere un piede, insomma, nella tradizione, anche quello che mi fece scattare, già da tempo la scintilla, di rilanciarlo. Come mai Figaro? Cercavo un nome che rimanesse in testa, intanto, quindi non avevo necessariamente la velleità di coniugare il nome alla città o a Rossini, però poi sono caduto su quel Figaro, inizialmente ho pensato solo a Figaro, poi era un po' troppo presuntuoso, allora ci ho messo Bar, perché tanto è un bar, l'attività è quella di un bar, quindi Bar Figaro mi piaceva, suonava bene. Hai detto scommessa, infatti è un momento molto particolare per aprire un locale, un momento non dei più felici per quello che è il bar e la ristorazione, ma ci vogliono questi atti di coraggio. Sì, osare sempre, io dico, osare è importante, ci vuole coraggio. E infatti è un momento in cui si apre e si è costretto a usare più il marciapiede che l'interno. Sì, però sai, arrivando anche la bella stagione, c'è questa bella terrazza, ripeto, e c'è un generoso esterno, perché non approfittarne, quindi poi anche in Viale della Repubblica, qui a Pesaro, è anche bello star fuori, quindi c'è anche un po' c'è anche un po' la voglia, nei bar soprattutto di questo tipo, di stare più fuori che dentro, incontrare l'amico che passa, salutarlo. Sono dinamiche anche abbastanza consuete. E allora davvero in bocca al lupo a questa nuova attività pesarese, si parla di allentamento delle restrizioni anche su un altro fronte, infatti questo sta togliendo il freno a mano, anche al turismo, e sblocca la tendenza crescente del mototurismo. Si tratta di una nuova formula di scoperta di itinerari, unendo la bellezza dei paesaggi marchigiani alla vocazione motoristica del nostro territorio. Ne abbiamo quindi parlato con la direttrice dell'Associazione Terra di Piloti e Motori, Raffaella Rossini. Terra Piloti e Motori ha ideato una mappa con 13 motopercorsi, disponibile sul nostro sito, disponibile nei centri yacht, disponibile in tanti hotel, in tante strutture, dove il turista con un QR code scarica direttamente la mappa su Google Map nel proprio telefonino per iniziare il suo viaggio nelle Marche. Forniamo anche, come servizio unico in Italia, la Regione, insieme a Terra Piloti e Motori, forniscono delle motoguide certificate. Quindi, se il turista vuole essere accompagnato, vuole vedere quelle parti del territorio che normalmente non riuscirebbe a visitare, perché non sa neanche che ci sono, noi lo portiamo in quei posti lì. Lo portiamo a vedere le collezioni private, che sono appunto non accesso pubblico, quindi su richiesta si possono visitare. Abbiamo adesso recuperato insieme ad Asi e al Ministero dei Veni Culturali e al Comune di Pesaro la collezione Morbidelli, gran parte della collezione Morbidelli, che adesso è stata appoggiata al Museo Benelli. Quindi è possibile visitarla e anche quella è una bellissima collezione che non si può mancare di vedere. Noi siamo pronti ad accogliere il turista, abbiamo anche selezionato delle strutture per l'accoglienza adeguata al moto turista. Quindi con alcune caratteristiche che prevede comunque una legge regionale, il moto turista verrà accolto nel migliore modo. Quindi questa pandemia, diciamo, ci ha bloccato tantissime cose, ma Terra Piloti e Motori ha fatto comunque una grande promozione per raccogliere poi i risultati appena si potrà, ecco. L'Associazione Piattaforma Solidale Attenta alle Criticità per i Cittadini Disabili ha inviato al Sindaco Matteo Ricci e all'Assessore all'Operatività Enzo Belloni due richieste di intervento. La prima è lungo la statale adriatica all'intersezione con via Ponte Vecchio, dove si segnalano pendenze pericolose per cittadini in carrozzina e accessi troppo ripidi al marciapiede, spesso ostacolate dal sistematico parcheggio di monopattini. La seconda è in Viale Zara, dove non esiste il collegamento a raso tra manto stradale e scivolo del marciapiede, un'irregolarità aggravata dal fatto di essere un intervento di recente realizzazione. A Bottega di Vallefoglia è stato oggi inaugurato il primo parco salute e benessere per i cittadini di Vallefoglia. Si tratta di un nuovo spazio allestito con attrezzi ginnici adiacente a Piazza Rossini, che risponde alle esigenze di palestra all'aperto caldamente consigliata per l'attività fisica in questo periodo di pandemia. Allo stadio Mancini di Fano invece è partita questa mattina l'installazione del nuovo impianto di illuminazione dell'impianto sportivo. Il progetto prevede la completa sostituzione di tutte le quattro torri faro presenti proprio nello stadio, con delle nuove strutture di nuova generazione alte 36 metri. Ed ora chiudiamo questa sera con un servizio di colore molto simpatico. Parliamo di cultura, parliamo di poesia dialettale. Le telecamere di Rossini TV infatti sono state ospitate nella casa di Arduino Scola per conoscere l'instancabile lavoro di questo depositario del dialetto pesarese. Con questi versi Arduino Scola, a inizio anni Ottanta, pennellava l'immagine di una Pesaro vissuta intimamente come può farlo solo un personaggio che 30 anni dopo resta uno dei più appassionati custodi e depositari del dialetto pesarese. Pesre è una delle migliaia di poesie uscite dall'ispirazione a getto continuo di Scola che lui, oggi ottantenne bloccato da gravi invalidità, continua a mettere sul taccuino o registrare su un'affidabile mangianastri che si fa beffe del tempo che passa mantenendo la stessa convinzione di sempre. Il dialetto pesarese deve rimanere. Il personaggio va, però fa parte della cultura perché è proprio la madre della lingua italiana. e io la vedo così perché poi le mie sono storie, sono racconti, sono la vita che viviamo tutti i giorni. Non ho inventato niente. Ho detto quello che era. Ecme, Ayardag, Clatrafaccia, Saravera, Un fagotto alla mundezza, Un ricord della mia infanzia, questi alcuni dei titoli che hanno accompagnato una vena poetica a flusso continuo per mezzo secolo di passione che non si spegne nemmeno di fronte a lutti familiari e ad una salute critica che lo ha confinato in sedia a rotelle nella sua casa di via Silvio Pellico a Pantano. Ognuno ne ha fatti mille, settemila libri ho fatto. Stampare a Rimini, uno me l'ha pagato l'azienda di soggiorno, una metà, uno me l'ha pagato un mobiliere che quando sono andato lo conoscevo. Gli ho detto io vorrei fare un libro, però devo fargli vedere cosa c'è nel libro. Prima. E lui mi ha detto guarda che io ti conosco, mi ha fatto l'assegno. Poesie che spaziano in ogni direzione, dalla pesaresità alla satira politica nazionale, dai sentimenti più personali all'ironia per tante storie di vita che dagli anni 70 in avanti sono state applaudite in altrettanti concorsi e teatri fra provincia pesarese e riminese. Esperienze tradotte in targhe e riconoscimenti esposti orgogliosamente nel suo salotto. Io sono stato a Rizzone recitare, sono stato a Rimini, al teatro da Rimini, sono stato alla sala polivalente di San Marino, ho girato mezza provincia, mi conosco da tutte le parti. Io purtroppo ho fatto tutto da solo, sono andato avanti con le mie spalle e mi sono fatto largo tra le gente, perché la gente mi apprezza per quello che faccio. A mia moglie le ho dicono tutti i giorni quanto sono belle. Non sono belle. E la vita che viviamo non sono poesie, sono storie, sono cose vere. Un patrimonio di storie e pensieri sempre più raro da reperire. Io me ne è rimasto poca roba, poco, 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 perché sono andati via tutti. Ma chi volesse apprezzare oggi i versi di scuola può farlo senza difficoltà. Mi trovo a casa perché io adesso sono impossibilitato. E allora davvero complimenti ad Arduino Scola per tutto questo immenso lavoro che ha fatto nella città di Pesaro. Adesso andiamo con la programmazione su Rossini TV. Questa sera si viaggia, seppur virtualmente, in Algeria alle ore 21.15. Questo bel documentario che vi consigliamo di seguire. E poi sempre questa sera, in seconda serata alle 22.15, lo spazio dedicato alla musica di qualità con Spazio Webbo. I protagonisti di questa sera saranno i Firulete Duo. E poi domani, Casa Rossini, avremo Gradara Innova con Mariangela Albertini, Alice Annibali, un'artista del territorio, e poi Giacomo Tamburini, uno dei titolari della celletta Country House, questo bel agriturismo che c'è appunto alle porte di Pesaro. Vi aspettiamo quindi domani alle 10 in diretta, in replica alle 16 alle 22. E poi vi ricordiamo la diretta televisiva su Rossini TV, la trovate innanzitutto sulle pagine in streaming della Fondazione Picozzi, di Picozzi. Ma sabato 8 maggio su Rossini TV vi trasmetteremo alcune parti di questa grande maratona. Vedete tanti ospiti illustri, chiaramente si parlerà di cibo, di sana alimentazione, di quello che bisogna fare per vivere meglio e stare meglio. E appunto, gli appuntamenti andranno avanti fino a domenica, e quindi non perdete questi bellissimi approfondimenti nel weekend su Rossini TV. Grazie per averci seguito, domani la rassegna stampa sarà condotta da Daniele Sacchi, continuate a seguirci anche sui nostri social, scaricate, mi raccomando, la nostra applicazione su tutti gli iPhone e smartphone, la trovate appunto negli Apple Store e non solo, quindi cercate Rossini TV e scaricate la nostra applicazione. Grazie come sempre e buona serata.